Buongiorno ragazzi e oggi vedremo come collegare un display voltometro digitale utile per molti lavoretti e progetti, ci sono differenti modi per poterlo collegare in base alle utilizzazioni, vediamo un po' come fare, sigla! allora buongiorno ragazzi bene questo penso che tutti voi lo conosciate è un display digitale voltometro praticamente fa lo stesso lavoro di questo display mi dice la potenza che sta utilizzando il mio dispositivo la mia batteria e il voltaggio e le ampere in uscita in più c'è pure non so se si vede qui si potrebbe mettere pure una sonda termometro e avere pure la temperatura ma oggi noi non lo facciamo vediamo solo come collegare dal nostro generatore alla nostra batteria che è questa qui che sto per costruire una presa portatile 220 volt ho già fatto il primo video andate a vedere presto uscirà l'ultimo definitivo e prima di dimostrarlo volevo farvi vedere giustamente come utilizzerò il mio display ma incominciamo subito allora esistono due modi principali per collegarlo se la nostra batteria è superiore a 4 volt e inferiore a 30 volt il mio consiglio è quello di utilizzare la nostra batteria che comunque dovremo sorvegliare e controllare tramite il display anche come alimentazione del display in questo caso gli schemi lo schema da utilizzare sarà questo ve lo lascio intanto in sovraimpressione e inizio a fare i collegamenti allora ecco il primo metodo di collegamento e l'ho già fatto così sarà più semplice il video sarà un po più chiaro vi lascio gli schemi naturalmente vi lascio in sovraimpressione così potete vederli praticamente allora i cavetti più fini in questo caso in nero il cavetto più fine ha tre cavi uno nero uno bianco e uno rosso vi ripeto il bianco serve per controllare l'amperaggio e gli altri cavi servono per alimentare il display e per rilevare il voltaggio allora in nero in questo caso piccolo fine non si userà e sarà libero il nero della nostra batteria sarà collegato al grande nero al grande filo nero come al solito il nostro filo rosso grosso del display sarà il nostro negativo in uscita e gli altri tre cavi che rimangono quindi il rosso fine il bianco fine e il positivo in uscita della batteria saranno tutti e tre collegati insieme e saranno anche loro il nostro positivo in uscita infatti l'ho già collegato ora io attaccando il negativo al nostro motore ok avete visto ci sono c'è l'amperaggio poco meno di un ampere c'erano la potenza circa 14 watt di potenza e questa sopra è il voltaggio nella nostra batteria quindi ripeto questo metodo è molto utile comodo perché non non abbiamo bisogno di per esempio una batteria esterna per alimentare il nostro display perché perché la nostra batteria che noi dobbiamo controllare compresa tra 4 e 30 volt che è giustamente il voltaggio che ha bisogno il nostro display per essere alimentato ma passiamo al metodo 2 nel caso in cui la vostra batteria sia meno di 4 volt o più di 30 ecco invece questo è il secondo collegamento potete vedere funziona display amperaggio voltaggio allora il collegamento è molto semplice praticamente il cavetto con tre cavi il rosso e il nero più fine andranno all'alimentazione esterna che deve essere compresa tra 4 e 30 volt dopo di che il filo bianco o giallo sarà insieme al rosso della batteria che sarà anche il rosso in uscita che va direttamente al nostro motore mentre il nero grosso del secondo cavetto come al solito come prima sarà in negativo in uscita in negativo in uscita non so se si è sentito potete vedere non do più di 30 volt perché comunque non voglio romperlo ma nel caso la mia batteria fosse una batteria da 2 volt come potete vedere magari lui gira pure aspettiamo un attimo gira però il display non è alimentato bene comunque il passaggio di corrente c'è e quando aumentiamo i volt arriviamo a 4 che il minimo che richiede senza problemi senza problemi quindi io vi ringrazio vi lascerò gli schemi e tutti i cablaggi potete trovare sul mio sito www.naturafai-date.it lasciatemi un messaggio se avete delle domande dei consigli da darmi guardate il prossimo video che sarà la presa portatile powerbank powerstation 220 volt fatta appunto con questo display la batteria il nostro trasformatore qui nell'angolino vedrete bene guardate l'ultimo video dove vi ho spiegato più o meno come composta anche lì c'è lo schema quindi grazie per aver visto il video like commento iscrivetevi al canale e alla prossima